Buonasera e do il benvenuto a tutti voi che siete qui presenti. Per il terzo appuntamento della rassegna prendiamola con filosofia, la stiamo prendendo con filosofia appunto, organizzata dalla libreria Rotondi e organizzata all'interno della manifestazione Notti di Cinema, promossa da Annec Lazio. Oggi siamo al terzo appuntamento e abbiamo un carissimo ospite che è Edoardo Camutri insieme ad Adriano Ercolani che è il conduttore della rassegna e quindi rappresenta il filo rosso che lega i vari ospiti. Adriano Ercolani da oltre vent'anni si occupa della relazione tra la cultura occidentale e quella orientale, scrive per quotidiane riviste specializzate, partecipa al progetto filosofico di Tron e a questo punto passo direttamente a lui la parola così ci introdurrà l'ospite e entreremo nel tema della serrata. Grazie Barbara, ma soprattutto possiamo dire la cosa più prestigiosa che ho fatto, cioè collaboratore del podcast della libreria Rotondi, cosa che mi inorgoglisce perché la libreria Rotondi senza piageria è un tempio della ricerca intellettuale esoterica a Roma e non solo, e non lo dico io, lo dicono i grandi che lo hanno frequentato, io mi sono emozionato la prima volta che entri nella libreria perché riconobbi una stampa del sistema sottile dei Shaker che utilizza Elie Mirzolla nel libro, ho detto ma l'ho presa tranquillo, o ve l'ha regalata lui o lui l'avete rubata, vabbè questo sarà oggetto di un altro incontro. Edoardo Camuria, al contrario di me, non ha bisogno di presentazioni, nel senso che Edoardo è non solo un intellettuale, uno scrittore, un divulgatore, ma è da anni un volto televisivo della Rai su diversi canali della TV di Stato, una delle pochissime persone rimaste a fare l'evolgazione culturale di qualità sulla Rai, non è necessariamente un complimento, perché sono gli altri che proprio... A parte di scherzi, sicuramente conoscerete dai tempi di Omnibus Estate, dalle antiche tempi di Omnibus Estate, ricordo la trasmissione bellissima sui luoghi del Giro d'Italia, anche maestri, trasmissioni dedicate ai grandi della letteratura italiana e non solo. E quindi questa sera parleremo di lui, Fredina Sedin, no, quello quando vogliamo. In realtà, questa sera, parliamo di qualcosa che scopriremo insieme, perché siamo entrambi due cultori del qui e ora, e il titolo è meraviglioso, io parlerò a pochi minuti, poi lascerò la parola a Edoardo, lasciando come negli altri incontri, spazio da dentro alle domande, o a uno scambio anche fra di noi. Oltre il mito dell'intelligenza, io ricordo sempre che da bambino, più o meno tredicenne, rimasi folgorato, come molti, dall'apparizione di Carmelo Bene da Costanzo, l'uno contro tutti, cui a un certo punto disse l'intelligenza è miseria. E dietro questa provocazione di Carmelo Bene c'è una lunghissima tradizione di sapienza mistica e non solo tutta la mistica orientale insegna il superamento dell'io, la vanità dell'identificazione con il proprio ego, ma anche nella nostra tradizione, quando si parla di questi temi è ridicolo, però diciamo una dei grandissimi sapienti d'Occidente, sommo padre Dante, ci dà la perfetta soluzione allegorica nella stessa struttura del poema dantesco, nel senso che Virgilio, che come sappiamo, memorie scolastiche di tutti noi, rappresenta l'intelletto, il giusto comportamento, il uso corretto della ragione, le virtù morali, eccetera, che accompagna il divino peregrino fino al trentesimo del purgatorio, quindi alle soglie, a bussare alle porte del paradiso, come direbbe Bob Dylan, però per accedere alla grazia divina è necessaria, dicevamo prima, la Shakti, direbbero in India, cioè l'elemento femminile, il superamento dell'intelligenza, il superamento dei limiti dell'intelletto. Carl Gustav Jung diceva appunto che la grande madre rappresenta l'elevatezza spirituale che trascende i limiti dell'intelletto. Il punto è come superarli, questi limiti dell'intelletto, perché spesso si pretende di superare questi limiti dell'intelletto senza passare per l'uso corretto della ragione, e quindi invece che raggiungere l'illuminazione, invece di essere illuminati, si è sostanzialmente decerebrati. Io parlavo prima del fatto della mia frequentazione quotidiana nei musei vaticani, ne vedo decine di migliaia ogni giorno di persone assolutamente inconsapevoli. Non ci riferiamo a quello, dobbiamo andare al di là dell'intelletto e non al di qua. Però, concludendo questa breve introduzione, ci sono state nella storia della mistica, ma anche della filosofia, se ridiamo alla filosofia il termine etimologico, e quindi riscopriamo le fonti cosiddette presocratiche di cui già abbiamo parlato nell'incontro precedente, se andiamo sulla scorta di Pierre Haddoux, di Kingsley, a ristudiare i padri della filosofia tra virgolette occidentale, scopriamo come la filosofia era un percorso sapienziale che doveva riattivare queste energie interiori, queste conoscenze interiori e spalancare, allargare la nostra coscienza. Concludo con una battuta, siamo vicini alla porta alchemica, vicinissimi, vestigia meravigliosa della ricerca alchemica rinascimentale e noi questa sera proveremo almeno a intravedere cosa c'è al di là delle porte della percezione, quelle porte che William Blake ha profetizzato che un giorno verranno aperte facendoci vedere il tutto per com'è, cioè infinito, e che poi Aldous Huxley, ispirando poi un noto gruppo rock, prenderà come titolo per un suo saggio straordinario, vertiginoso sulle esperienze psichedeliche, tema sul quale poi stimoleremo in tutti i sensi Edoardo, e non a caso Huxley, intelligentissimo come era, conclude questo saggio citando Tommaso D'Aquino, che davanti alla visione del divino dice tutto quello che ho scritto, questa immensa cattedrale teologica della Somma Deologie, non è che paglia rispetto alla visione del tutto, ma come possiamo vedere Dio e ce l'ho detto adesso e della Tocamù. Grazie Adriano. Grazie Adriano Ercolani, grazie Barbara, grazie la Redi per i Rotondi e soprattutto grazie a tutte e a tutti voi che siete qui per ragionare insieme con quello che vorrei provare a fare oggi e ragionare insieme, confrontarci insieme e appunto, visto che il titolo di questo incontro è ambiziosissimo, oltre il mito dell'intelligenza, ma io toglierei la parola mito, è proprio oltre l'intelligenza non abbiamo preparato nulla, cioè proprio è nel desiderio nostro una sorta di frigese e per certi versi mi verrebbe da... voglio iniziare male, proprio perché, capite, cioè parlare contro l'intelligenza presuppone un grande esercizio di intelligenza e quindi per definizione finiamo in una contraddizione piuttosto pericolosa e feroce. Allora vorrei iniziare questo intervento raccontando una barzelletta che è una barzelletta che fa ridere solo me ed è me e chi l'ha inventata che è stato il grande Nanni Svampa. Nanni Svampa racconta a proposito dell'intelligenza questa barzelletta due punti è una telefonata non la so neanche raccontare non la so neanche raccontare cioè proprio non fatevi illusioni faccio questa premessa non per auspicare il vostro riso per pietà o per altro ma non fatevi illusioni è una telefonata uno chiama pronto? intelligent service e dall'altra parte eh? fine. fa solo ridere me e Nanni Svampa ma io penso che Adriano Ercolani ma io penso che sia una buona introduzione per quello che proveremo a fare oggi cioè è un coanzenne ma per provare a fare quello che per cercare di fare quello che proveremo a fare oggi e cioè provare a ragionare provare a superare l'idea dell'intelligenza ehm la superiamo anche mi riaggancio Adriano ha detto molte cose tutte importanti e significative noi proveremo poi magari anche ad abitarle tutte queste cose ma proprio contro il mito dell'intelligenza giustamente Adriano ha citato la conclusione del saggio sulle porte della percezione di Salto Saxley ha citato San Tommaso d'Aquino ha detto tutta la mia la teologica la mia opera io che sto la più grande cade di nazi a tutto nello stesso libro di Aldous Huxley quando Aldous Huxley assume una discreta dose di mescalina a un certo punto cosa racconta ho visto sotto mescalina la piega dei miei pantaloni di flanella e in quella piega ho visto cose per le quali butterei via tutta l'arte dell'umanità l'infinito i significati lo spirito si è manifestato con potenza in un oggetto di uso comune umile un paio di pantaloni di flanella che quel giorno Aldous Huxley ha deciso di indossare già questo ci racconta un interessante paradosso la meraviglia lo stupore il significato l'apertura di quelle porte della percezione è passato laddove non ci sarebbero aspettati che sia passato è passato attraverso la piega di un paio di pantaloni non ha avuto bisogno di alcuna costruzione teorica logica di nessuna forma complicata di espressione di manifestazione eccetera perché era sufficiente affinché noi insieme a Aldous Huxley decidessimo che avremmo potuto anche rinunciare tutto è bastato un paio di pantaloni di flanella grigia e un cucchiaino di mescalina prodotto da un cactus che si trova soprattutto nel deserto messicano già questo è credo piuttosto significativo di quello che insieme ad Adriano Ercolani proveremo a fare quantomeno da abitare di Tancel non è che crediamo un po' troppo nell'intelligenza dico nell'intelligenza come strumento discorsivo e come capacità logica argomentativa di stendere una rete articolata di concetti e di significati capaci di significare qualcosa del mondo e della realtà cosa significa pensare che sia sufficiente anzi che sia la condizione necessaria per conoscere le cose ad operare un sistema logico deduttivo induttivo capace argomentativo basato sul principio di non contraddizione capace di prendere e conoscere la realtà ma cosa significa cosa c'è dietro il bisogno di un sistema logico deduttivo basato sul principio di non contraddizione che è uno dei modi in cui immaginiamo si manifesti l'intelligenza cosa si nasconde dietro quell'istanza e quell'esigenza qual è il desiderio la spinta che muove quel bisogno espressivo e l'utilizzo di quella tecnica conoscitiva rispetto al mondo perché vogliamo conoscere e cosa significa conoscere comprendiamo bene non abbiamo ancora iniziato a dire nulla nello stesso tempo stiamo poco per volta dicendo già tutto cioè stiamo interrogando le ragioni stesse per le quali desideriamo conoscere vogliamo conoscere conosciamo e interroghiamo in modo che quanto meno la nostra come dire storia culturale da un certo punto in poi rappresentato come il modo per conoscere cioè l'utilizzo è un utilizzo come dire forte critico aggressivo anche dell'intelligenza vedremo poi come questo modo di immaginare l'intelligenza e il suo uso assomiglia anche molto a quello che Adriano Ercolani ricordava prima cioè quel famoso passaggio di William Blake sulle porte della percezione una volta in cui spalancheremo le porte delle percezioni il mondo ci apparirà così come esso è infinito innanzitutto questa cosa qua la mettiamo un attimo da parte questo primo concetto ce lo teniamo lì dopo ci ci servirà e ci torneremo ma adesso prima vi ho raccontato una parzelletta di Nanni Svampa prometto che non la racconterò più e che sarà l'ultima parzelletta e l'unica parzelletta che racconterò stasera invece voglio raccontarvi un film un film che credo molti di voi abbiano visto quanti di voi hanno visto mentite in questo caso quanti di voi hanno visto gli spiriti dell'isola uno due tre quattro cinque sei sette insomma c'è una decina di persone che hanno visto questo maraviglioso film un film che a me è piaciuto molto gli spiriti dell'isa un film che è ambientato in un isolotto delle isole in Irlanda un isolotto in cui c'è fondamentalmente un paese con un emporio un negozietto poche altre cose e tante case sparse di persone che vivono tutto l'anno isolate e sempre e soltanto tra di loro è un film che ovviamente pare inchietture cosa succede perché a un certo punto c'è una coppia di amici ma amici non per scelta ma perché vicini di casa e che da sempre sono obbligati a frequentarsi uno dei due è una persona semplice è una persona che viene accusata a un certo punto dall'altro di essere noiosa stupida di essere appunto tale che questo altro che uno che suona il violino simpatico un po' più grande affascinante ogni tanto arriva qualcuno che venga a trovarlo di ragazzi vogliono imparare solo il violino le canzoni irlandesi che anima quel che si può l'unico pub che è presente dell'isola che è sempre frequentato dagli unici che ci abitano cioè le stesse persone a un certo punto questo qui il violinista quello che accusa l'altro di essere noioso improvvisamente lo rifiuta improvvisamente non lo vuole più vedere ma non lo vuole più vedere a livelli e qui è l'elemento drammaturgicamente interessante del film dal punto tale che se tu mi rivolgi ancora la parola io inizierò a tagliarmi le dita delle mie mani mi rivolge una parola mi taglio un dito ma la rivolge ancora un'altra un altro giorno e le mani esatto e le mani e con quelle mani e con quelle dita io faccio l'unica cosa che mi importa e che mi rende speciale cioè suonare il violino e uno a questo punto si chiede la spiegazione più semplice che uno dire vabbè questo è pazzo in realtà non è pazzo non dice nulla che possa sembrare incoerente dice delle cose che sembrano come dire originali ma non incoerenti no? cioè non è una persona che ha l'idea della follia altrimenti il film perderebbe senso e valore significato è una persona che improvvisamente oppone un rifiuto al suo amico e glielo pone come dire no cioè normalmente dice non ti voglio più vedere se ti fari vedere ti corco no questo sarebbe un atteggio no dice no se tu ti fai vedere e mi rivolgi la parola io mi taglio poco per volta un dito delle mie mani e succede e succede questa questa persona diciamo quello buono quello tonto quello noioso non capisce ma gli avrò fatto qualcosa se sarò offeso se ero stato antipatico e poi si sentiva solo aveva bisogno di compagnia quindi cerca gli chiede ragione di questa cosa succede che a un certo punto la prima volta che gli chiede ragione si taglia un dito e questo dito gli ero getta con disprezzo a un certo punto però nel corso dello sviluppo del film quando si arriva al momento del taglio del primo dito della mano iniziamo come spettatori come spettatrici ad accorgerci di qualcosa cioè prendiamo piano piano coscienza a meno così è successo a me che in quest'isola non ci sono soltanto questi poveri questi pochi umani ci sono anche degli animali quest'uomo un po' tonto è molto legato se ricordo bene a un'asinella ci sono degli uccellini ci sono degli uccellini che uno si sente più spolare che compaiono ci sono dei cani il cane di questo e questi animali noi ci accorgiamo man mano che conosciamo il protagonista del film cioè l'uomo noioso noi ci accorgiamo e vediamo piano piano come qual è il rapporto di quest'uomo noioso con questi animali noi ci accorgiamo poco per volta che questo uomo noioso assomiglia profondamente a quegli animali che accompagnano la sua vita e che stanno sull'isola non c'è tanta differenza tra quell'uomo anche quegli animali sono abitudinari fanno le stesse cose dicono a loro modo esprimono a loro modo le stesse cose le stesse esigenze e la loro vita corrisponde esattamente a quella del ciclo del giorno dal sole che sorge tramonta a quel ritmo esattamente come quel ritmo naturale che è molto presente si impone alla vita di quell'uomo noioso non c'è differenza tra quell'uomo noioso e l'asinello che ama tanto iniziamo a accorgerci di questo e nello stesso tempo ci accorgiamo come invece quell'altra persona il violinista che si sta tagliando le dita assomigli molto a noi è ambizioso sta lavorando strenuamente per scrivere una nuova musica probabilmente ha scritto poesie che piacciono ai ragazzi giovani è un uomo che produce storia che vorrebbe produrre storia l'altro è un uomo al di fuori della storia prima della storia o dopo la storia tenete bene che poi vi ricordo che poi durante il film in questa isola rana noi vediamo il continente e nel continente c'è la guerra c'è la storia ci sono gli umani che come tali sono produttori di storia in quell'isola la storia è vista da lontano ci sono dei fumi qualche notizia no? un po' di spauro un po' di spavento ma è qualcosa che comunque non arriva in questo isolotto delle arane e allora qual è il punto? a me una delle possibili chiavi di lettura è che in tutto il film noi assistiamo al tentativo dell'uomo violinista di iniziare l'amico noioso a diventare umano e questa iniziazione ha un climax vengono perdute sempre più dita finché poi l'uomo violinista uccide ferocemente l'asinella che era l'amica dell'uomo noioso finché l'uomo noioso a un certo punto diventa umano la rabbia l'aggressività che lui ha subito e l'insensatezza che lui ha subito gli rompe qualcosa dentro e lo fa diventare umano umano al punto tale che decide di uccidere l'amico bruciandogli tutto e l'amico cosa fa? lo lascia e fa abbiamo assistito in questo film o come l'impressione ovviamente è un film che si può prestare ad altre letture rispetto a quella politica rispetto a quella che a me è venuta in mente guardando l'ambinato abbiamo assistito al passaggio dall'animale al uomo abbiamo assistito al passaggio di un essere vivente che viveva diciamo così semplificando molto in una consonanza totale con la natura a un essere vivente umano produttore di storie produttore di volontà e produttore di significati possibili che creano e che diventano ciò che per noi umani è semplicemente il racconto della nostra intelligenza e cioè della nostra espressione questo passaggio il passaggio da animale a uomo è un passaggio che si esercita attraverso la violenza attraverso la rottura allora perché ho voluto mi è venuto in mente così è free jazz ma mi è venuto voglia di raccontarvi questo questo film e questa scena perché sono persuaso che in questo film e in questo film noi abbiamo un racconto cioè abbiamo un racconto di come ciò che noi amiamo legittimamente e ovviamente io per primo cioè la nostra intelligenza la nostra storia le nostre idee la nostra cultura la nostra capacità di produrre gente di immaginare sia una storia che è tale perché in un certo senso arriva da un atto di violenza di frattura di separazione che è stata imposta a un altro ordine della vita che noi a un certo punto abbiamo deciso di riconoscere come opaco muto non intelligente non significante anzi che abbiamo iniziato a riconoscere come un oggetto di cui possiamo disporre a nostro piacimento allora possiamo prendere quegli animali possiamo ucciderli possiamo mangiarli perché a noi ci serve la carne di quegli animali per poter crescere diventare più potenti più forti possiamo decidere di studiare e di separare la natura sulla base dei nostri interessi delle nostre utilità iniziamo a concepire la realtà come una contrapposizione tra un soggetto conoscente e un oggetto conosciuto un oggetto che diventa in quanto tale appropriabile prendibile William Blake allora abbiamo detto prima come dire la sopravvalutazione dell'intelligenza e nello stesso tempo abbiamo detto quali sono le ragioni per le quali invece noi amiamo l'intelligenza abbiamo iniziato a vedere l'elemento violento abbiamo queste due cose che ci teniamo qui nel cassetto del nostro ragionamento abbiamo anche nominato William Blake quando le porte della percezione verranno aperte il mondo apparirà così come esso è infinito i pattaloni di flanella di Aldous Huxley che una volta che si apano le porte della percezione manifestano una quantità di bellezza di significati di profondità tali che tutto il resto tutta la storia dell'uomo si può buttare via guardiamo un attimo cosa significa che cosa potrebbe significare che cosa potrebbe significare quest'idea di aprire le porte della percezione è molto complicato io cerco proprio di dirlo dalla maniera più corretta possibile senza fare troppe imprecisioni per certi versi inevitabili perché in un certo senso parliamo un po' di quel poco che iniziamo a sapere di come funziona il nostro cervello ma insomma fondamentalmente tutti noi in questo momento abbiamo attivo quello che ormai nelle neuroscienze si chiama il mode default network cioè una rete di connessioni neuronali che servono a dare organizzazione e forma alla nostra esperienza cioè la nostra esperienza esteriore ciò che percepiamo attraverso i nostri organi di senso quello che noi vediamo sentiamo eccetera e anche la nostra percezione interiore cioè quello che internamente sentiamo proviamo vacciniamo desideriamo tutto questo passaggio tra esterno interno è organizzato da questa rete neuronale che si chiama per l'appunto mode default network è in un certo senso come dire quella valvola di riduzione di parlare sempre in quel libro porta la percezione che sistema e organizza tutto ciò che c'è è una valvola è una chiusura è una lama che dà forma al mondo è una lama che ci suggerisce un modo di stare al mondo ci suggerisce che c'è una divisione appunto tra un soggetto e un oggetto tra un interno e un esterno ed è una lama che dal punto di vista una valvola che dal punto di vista evolutivo ci è molto servita ci consente di sopravvivere consente di avere come dire un'organizzazione mentale per cui se io vedo del fumo posso immaginare che ci sia del fuoco e se so che c'è del fuoco posso decidere che cosa fare se correre a spegnerlo o se scappare perché posso presumere che quelle fiamme tra poco mi raggiungeranno ovviamente se questa valvola questo mode fault network dovesse in un certo senso scomparire o essere sospeso o essere aperto il mondo mi apparirebbe così come esso è infinito e se è infinito sono guai per la mia sopravvivenza sono guai perché se è infinito non è più possibile quella dimensione finita che già si dà soltanto nell'immaginare un interno un esterno un soggetto un oggetto che già pongono dei limiti dei confini dinnanzi a quell'infinito se appare l'infinito soggetto oggetto interno esterno diventano un unico flusso e se c'è un unico flusso io sono quella fiamma io sono quel fumo quel fumo è me e quindi come dire dal punto di vista della utilità evolutiva una situazione di questo tipo sarebbe pericolosa ma è una situazione di questo tipo che è pericolosa ma che nello stesso tempo rompendo quel dualismo soggetto oggetto interno esterno rompendo quel dualismo rompe anche quell'elemento violetto e che in un certo senso consente a ciascuno e ciascuno di noi di ritornare a essere quell'animale quella forma quella natura quell'espressione che viene esclusa dal fatto di essere umani ora io non non so se tutto questo è chiaro o in qualche misura inizia a prendere forma ma in un certo senso stiamo iniziando a comprendere come nell'idea di intelligenza noi abbiamo fondamentalmente l'intelligenza così come noi siamo abitati a concepirla presuppone da una parte una scelta presuppone da una parte una riduzione delle nostre capacità percettive la dico da una maniera più semplice possibile di ciò che c'è l'intelligenza diventa tutto sommato una riduzione delle possibilità dell'intelligenza stessa in nome di una necessità di sopravvivenza una necessità di sopravvivenza che come tale mettendo in gioco e mobilitando il concetto di paura il concetto di morte possibile il concetto di scomparsa mobilita anche il concetto di violenza devo agire sono legittimato ad agire in maniera violenta uccidere quell'animale uccidere quella persona se presuppongo che si rappresenti per me un pericolo in nome della mia del mio bisogno di sopravvivere e della mia paura di morire paura di morire e bisogno di sopravvivenza che è tale perché la mia intelligenza si è ridotta attraverso quella valvola che non consente più quella manifestazione piena di qualcosa di infinito e superiore fermerei qui per un secondo Adriano se tu vuoi da questo punto legarti collegarti e proviamo poi a città avanti spero che sia tutto chiaro adesso vedo il fondo io spero di no comunque adesso ti confondo io c'è questa mosca che continua a posarmi addosso costeggiandovi a una feroce introspezione sui miei limiti comunque ti rispondo anch'io con la parzelletta che secondo me svela appunto i meccanismi contorti della logica e questa conflittualità violenta ontologicamente umana c'è un masochista che va da un satico e l'idea e il satico chiede fammi soffrire e il satico no e questo è in realtà il cortocircuito logico tipico della mente umana perché la perversione insida diciamo sia nel masochismo che nel satismo è la dialettica diciamo contorta che poi viene esposta nella contraddizione logica ora potremmo chiusare per ore gli spunti che ci ha fornito Edoardo io ne dico solo due uguali e contrari ormai chi viene a questi incontri mi conosce quindi già sa dove vado a fare Aristotele il principio di identità il principio di non contraddizione sapienza orientale tatuamasi tu sei quello ora la domanda che poi vorrei riporre Edoardo ed è una cosa che io cito spesso perché secondo me è proprio il nucleo e il noto cruciale della questione e di ogni questione per quello che mi riguarda dal punto di vista filosofico Blake profetizza l'apertura delle porte della percezione e quindi la realizzazione per usare un termine caro la spiritualità orientale che è il mondo infinito Aldo Saxley tra parentesi abbiamo parlato di arte tutti dobbiamo ringraziare Aldo Saxley anche per il fatto che possiamo ancora contemplare la resurrezione di Paolo della Francesca da lui definito il quadro più bello del mondo e se ne ricordò un importante credo colonnello inglese che decise di non bombardare quella zona della Toscana per salvare quel quadro che aveva letto in un articolo di Aldo Saxley essere il quadro più bello del mondo quadro di Paolo della Francesca che è una risposta a secoli di speculazione sulla sofferenza del Cristo sul senso di colpa e invece appunto in questa meravigliosa triunfale preblechiana quasi visione del Cristo ci dona appunto la liberazione interiore ora parlando di liberazione se Aristotele è stato il grande come dire analizzatore il più grande esploratore all'interno dei confini della mente poi abbiamo avuto chiaramente Tommaso d'Aguino all'interno della tradizione cristiana poi abbiamo avuto Immanuel Kant ma appunto grandissimi maneggiatori di quella lama di cui parlavamo prima al contrario la sapienza orientale lo scopo proprio dello yoga ad esempio secondo Mirza Elia l'etimologia di yoga è unione da gancio a ganciarsi proprio a questa realtà vogliamo dire superiore vogliamo dire divina vogliamo dire onipervadente scegliete il termine che volete il Sazra è l'ultimo chakra nel sistema sottile è proprio il chakra che una volta aperto ci dona la connessione con potremmo dire quell'infinito di cui parlava Blake Aldo Saxley appunto scrive questo saggio testimoniando le sue esperienze con le terroche psichedeliche il buon dico buon ironicamente Jim Morrison giovane incarnazione del di un Dioniso roccheggiante prende prende il nome del suo gruppo memorabile The Doors dal libro di Aldo Saxley e muore a 27 anni bruciando in maniera polgorante la sua parabola poetica esistenziale attraverso appunto l'abuso di droghe di atto eccetera con tutto l'amore per il vecchio Jim che ringraziamo sempre per aver scritto almeno when the music is over secondo me è una relazione della storia del rock però non credo fosse quel tipo di infinito che Blake stesse delineando quindi la domanda che pongo a Edoardo è come possiamo perché un conto è abbassarsi a livello regredire diciamo a livello istintuale prelogico tornando appunto al discorso iniziale dantesco come facciamo a passare attraverso a ritornare il percorso di Dante è quello di scendere nell'inferno visitare le vite espiritali uno a uno e ritornare attraverso la consapevolezza del peccato dell'errore secondo la visione cristiana si arrivano alla visione del tutto i grandi mistici della vaida vedanta prima ovviamente non poterano non poterlo non pensarci quando lui diceva cosa conosciamo qual è la moda della conoscenza noi abbiamo appunto in occidente sviluppato l'approccio di ulisse dell'ulisse dantesco i saggi della vaida vedanta shankara su tutti ti dicono tu per conoscere una cosa devi diventare quella cosa devi e quindi appunto in questo processo di fusione mistica con l'oggetto stesso nella pagaladita a un certo punto il dio sublime krishna dice tu per essere un mio devoto per offrirmi qualcosa noi siamo abituati alla devozione del santino a dire la preghiera ti prego esaudisci la mia preghiera alla madonna o a san gennaio krishna dice no tu per offrire qualcosa a me devi diventare me stesso la nania pakti la devozione dove non c'è altro che l'identità con quello che possiamo indicare il divino o il tutto o l'infinito di Blake allora siccome nella storia il novecento è pieno gli adorabili ma anche prima nell'ottocento pensiamo a Baudelaire pensiamo alle corrispondenze di Baudelaire prima tu hai appunto parlato della natura muta no l'inizio di corrispondanza di Baudelaire scolasticamente definito il manifesto del simbolismo sembra all'inizio un trattato di yoga perché dice no la natura è un principio appunto in cui no lo citiamo sempre nei nostri incontri è una delle vette della coscienza moderna occidentale però poi Baudelaire questa unione questa connessione questo ritorno all'uno non lo cerca nella Kabbalah o nello yoga ma lo cerca nei sensi stessa cosa in maniera più violenta più selvaggia attraverso lo sregolamento metodico di tutti i sensi che è stato il grande padre delle avanguardie dei surrealisti in qualche modo fino a fino a Dylan e alla grande stagione psichiatricica degli anni 60 allora la domanda che pongo senza alcun intento moralistico come facciamo andare al di là dei limiti dell'intelletto e non invece senza rischiare di regredire a uno stato prelogico istintuale animale che ci induce a morire in una vasca a 27 anni a Parigi allora innanzitutto grazie Jim Morrison che ci sei stato e penso che il fatto che lui sia morto a 27 anni è morto a 27 anni è Jim Morrison come diceva Lou Reed la mia la mia settimana batte il tuo anno quando è uscito con Metal Machine per provare a rispondere a tua domanda ovviamente non sono io in grado di rispondere a questa domanda però ascolto questa domanda ed è una domanda che ovviamente mi pongo ascoltando questa domanda la prima osservazione che mi verrebbe da fare è che è ma del tutto provvisorio ipotetica stiamo qui per ragionare insieme e che questa domanda è una domanda platonica cioè presuppone presuppone che ci sia il vero e l'apparente ho iniziato con Aristotele apposta il vero e l'apparente un mondo delle ombre una caverna è un mondo finalmente illuminato è una domanda che presuppone un soggetto un oggetto presuppone è una domanda che presuppone una visione dualistica ok in cui continuiamo a muoverci in questa logica di separazione possibile e se noi ci muoviamo è una domanda quindi che presuppone che noi umani ci pensiamo come in evoluzione c'è una situazione di decadenza di degrado e noi dobbiamo ambire a colmare questo degrado una domanda posta in questi termini presuppone già il mondo della tecnica presuppone già la prima guerra mondiale presuppone già in una condizione di mancanza e di deficienza parlavamo di intelligenza io devo utilizzare sono legittimato utilizzare tutto quello che posso costruire tutti i mezzi che posso per poter colmare quella condizione di deficienza tutto sommato chiedo sono tanto diverse le ragioni per le quali dichiariamo guerra rispetto alle ragioni per le quali decidiamo di migliorarci o decidiamo di cambiare non sto dicendo che non vada bene cambiare non sto dicendo che non vada bene migliorarsi sto dicendo che la spinta cioè quell'elemento che precede tutto questo e non lo so se sono tanto differenti cioè anche se o quantomeno sono parecchio differenti nel momento in cui si esprimono queste ragioni e sono molto ed è molto importante mantenere quelle differenze ma c'è un istante Giorgio Colli parlerebbe del contatto c'è quel momento del contatto in cui quelle ragioni non sono ancora forse del tutto differenziate facciamo un esempio no Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina e noi ci chiediamo ma quali sono le ragioni per cui Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina e ovviamente noi potremmo trovare leggendo Caraccio guardando la televisione studiando leggendo i giornali approfondendo i temi grandi temi della geopolitica troviamo innumerevoli ragioni non sto dando ragione a Putin io sono contro Putin ma troveremmo innumerevoli argomenti per li quali noi possiamo immaginare che Putin abbia invaso l'Ucraina da come dire cartelle cliniche a ragioni geopolitiche dalla storia degli zar a un tentativo di imporre modi ordini nuovi rispetto ai modi ordini del liberale possiamo stendere sul tavolo tutte le ragioni ma queste sono le ragioni per cui Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina sì nello stesso tempo non del tutto probabilmente Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina perché boh per risentimento per invidia per rabbia per stanchezza cioè c'è sempre e questo non è Camurri e Nietzsche e René Girard se siamo in obbligo di metterle note di pagina ma come dire ci sono sempre delle ragioni cioè tutto sommato molto semplici sulla base del nostro agire e del nostro pensare e del nostro scegliere c'è un passo molto bello in cui in un libro bellissimo di Jack London La crociera dello Sdark in cui Jack London si costruisce una barca a vela e decide poi di fare di attraversare l'iceano e lui all'inizio di questo libro si chiede ma tutti mi chiedono ma perché lo fai perché vuoi fare sta roba e lui dice ma la figlia risponde alla verità perché mi piace e tu dici a Jack London tutto sommato uno può chiedere a quella quell'altro ma perché fai questa e ogni risposta finirà con un mi piace ecco il contatto la spinta che ci porta a muoverci in una direzione prestabilita in una visione diciamo così dualistica sono sempre ragioni come dire tutto sommato semplici ne ho bisogno ne ho paura sento un po' il bisogno di vendicarmi e sono le stesse ragioni per cui sono la base per cui Vladimir Putin dichiara guerra all'Uklaida non sono tanto diverse rispetto ai sentimenti che ciascuno e ciascuno di noi prova praticamente ad ogni istante delle proprie giornate quando hai semplicemente ti trovi in ascensore con un estraneo e non sei bene che fare e per certi versi senti dentro quella morsa lì no? di imbarazzo di difficoltà a seconda delle circostanze ascolti come ciascuna e ciascuno di noi è fatto e sta in quel momento ecco ma non c'è tanta differenza c'è un'enorme differenza quantitativa quantitativa che è una differenza che fa la differenza ma al di là di questo che siamo ancora come dire a livello del dispiegamento delle ragioni intelligenti con le quali grazie alle quali noi proviamo a dare una spiegazione del mondo qualitativamente c'è una radice comune c'è un contatto comune e allora alla domanda come la domanda che appunto presuppone anche la paura che essere animali significhi essere inferiori che essere istintuali significhi essere inferiori rispetto a un superiore possibile di cui mi ritengo chissà perché più degno no anche lì c'è Pascal diceva l'uomo è mezzo angelo è mezzo angelo è mezzo a testa e chi vuole essere angelo diventa una testa sì 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 adesso questo non lo ricordavo ma presuppone appunto che ci sentiamo degni vorremmo ambire saremo no speriamo in quello cioè c'è sempre l'opera un desiderio e se poi non succede e se poi non sono degno e se qualcuno mi esclude perché il circolo iniziatico non mi vuole eccetera allora proverò risentimento rabbia invaderò l'Ucraina costruirò allora finisco poi la risposta della ghida è proprio quella bisogna arrendere i frutti del desiderio bisogna arrendere il frutti del desiderio e oltre alla ghida mi verrebbe da rispondere poi alcuni degli ultimi forse gli ultimi grandi sapienti apparsi nel novecento erano quattro ragazzi di Liverpool è che poi alla fine cosa dicevano qual è quel passaggio di cui tu mi chiedevi Adriano it's easy all you need is love può sembrare semplice it's easy lo è è molto semplice ma è l'apertura l'ingresso nell'infinito che si fa con amore e si fa con compassione cercando da una parte di sorvegliare fino in fondo ma non come dire sempre rassorvegliare altrimenti se è sempre la tessologica come dire i pensieri le ragioni le intelligenze i desideri le ambizioni tutte legittime che potrebbero in qualche misura impedire alla manifestazione dell'amore di esserci e di manifestarsi e quell'amore è l'infinito e chiudo e poi andiamo ma c'è una cosa molto interessante questo che si lega alla storia della filosofia ecco questa immagine la ritroviamo in due casi la ritroviamo negli scritti di Sesto Empirico che è stato il padre come dire della filosofia scettica antica e poi la ritroviamo più avanti nell'opera di Ludwig Tittgenstein Sesto Empirico fondamentalmente cosa ci insegna? ci insegna che l'utilizzo dell'intelligenza e della ragione logico-deduttiva un ottimo strumento ma come tale è un po' una prostituta fa un po' quello che vuoi diceva Sesto Empirico attraverso l'uso della mia intelligenza io proverò troverò sempre argomenti persuasivi per sostenere una tesi e la mia intelligenza mi darà sempre altrettanti argomenti persuasivi per sostenere la tesi opposta Gorgia lo fece dal vivo Gorgia lo fece dal vivo grande sofista allora questo passaggio l'intelligenza come una prostituta che ti offre i suoi servizi sono belli sono forti accidenti ci fa sentire bene ci fa sentire meglio ma è una prostituta tanti offre la possibilità non del vero in quanto tale ma del poter pensare di aver raggiunto il vero o magari di imporre a qualcun altro o qualcun altro il tuo vero e quindi tanto più sei un abile amante di questa prostituta tanto più potrai goderne i servizi e il potere che essa ti darà potere che in quanto tale potrai incontrare è sempre una forma di violenza di sopravvazione è sempre una negazione di quell'amore che abbiamo nominato precedentemente se sto empirico usava questa immagine usava l'immagine e poi l'intelligenza ne dobbiamo pensarla che se è un po' come una scala che ti consenta di salire sul tetto di una casa una volta sei sul tetto che la tieni a fare la scala come la barca nell'apologo zella come la barca nell'apologo zella la stessa immagine la stessa immagine la ritroveremo poi l'utilizzata lo stesso Wittgenstein tutto prima hai citato Pieradot e Pieradot ha scritto un saggio molto bello infatti è stato se ricordo bene l'intellettuale lo studioso di filosofia che ha portato Wittgenstein a essere un po' più conosciuto in Francia ecco Wittgenstein è il mistico no? è il mistico che a un certo punto dice proprio no? cioè tutte queste cose che io dico dobbiamo ci servono ma poi dobbiamo immediatamente anche abbandonarle abbandonarle e quindi anche dimenticarle e quindi anche superarle e quindi anche a un certo punto disinteressarci ecco il tractatus logico filosofico stermina con stermina sulle famose parole non si possono più dire perché è come però su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere ma c'è un fatto interessante che lo dice su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere sull'ultima parole della prima grande opera di Wittgenstein e dice su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere sembra quasi un'indicazione come dire iniziatica certe cose non si dicono sono preziosi siamo entrati in una zona sacra anche qui che suppone una divisione tra il sacro e il profano è un'immagine ancora platonica però se questa frase come adesso non mi ricordo come si in tedesco ma però mi pare che la traduzione in Audi abbia sia così ma se è l'ultima frase che chiude il trattatus di Wittgenstein ed è se noi immaginiamola così su ciò virgola di cui non si può parlare virgola bisogna tacere qui troviamo sistemibili su ciò tutto quello che io vi ho detto prima di cui non si può parlare bisogna tacere cioè di cui non si può più parlare perché basta dimentichiamocelo su ciò di cui non si può più parlare perché dobbiamo disinteressarcene dobbiamo dare un calcio a tutto quello non si può parlare non c'è più nessun motivo di cui parlare allora come dire si perde l'aspetto come dire platonico iniziatico e si acquisisce la salata la salata la salita la salita su quel tento su ciò bellissimo esattamente quello che fa tanto nel sentire del pulgadolo che è quello che fa la salata butta via Virgilio o Virgilio più cortesemente decide di dissolversi e arriva poi Beatrice c'è come dire la manifestazione di un percorso iniziatico che si dà anche attraverso una costruzione poetica e anche matematica e logica che è quella come dire che riconosciamo più facilmente quindi più facilmente possiamo ad accettare e che è capace poi di portarci attraverso ecco però il punto è esattamente quello di provare a decostruire quelle che sono le ragioni dell'intelligenza come un ostacolo a quella manifestazione blechiana che abbiamo evocato che si che se c'è è innanzitutto amore cioè rinuncia di potere di violenza di bisogno di controllo e se c'è amore non può esserci quella paura quella pura che è la base del nostro istinto di conservazione che quindi è il meccanismo è la macchina che ci fa funzionare che in quanto tale legittima giuridicamente per certi versi per stare alla riflessione sullo stato di eccezione legittima giuridicamente qualunque atto di violenza e di prepotenza dove per chiudere e per riassumere possiamo sentire e immaginare come la differenza siano soltanto quantitative ma non qualitative rispetto alle diverse manifestazioni della vita dalla prima guerra mondiale come dire al fatto che oggi in macchina uno mi ha suonato il claxon e lo ha dato a steve grazie prima di lasciare io facevo un'ultima riflessione per introdurre alle domande facendo un miscoglio pop che ci piace tanto io metterei a fianco due citazioni perché chiaramente appunto la provocazione platonica che ti ho fatto è che proprio da buoni gnostici da regno della non dualità dobbiamo scoprire in realtà 2-1 come nell'itemologia di yoga eccetera le due citazioni che riassumono un po' il nostro discorso sono and in the end the love you the sequel the love you game l'ultima parola di Aperioti e questa si è fra l'altro l'ultima canzone dei Beatles l'ultima l'ultima incisa ma anche dell'ultimo album perché è vero che i Beatles hanno pubblicato per ultimo let it be l'ultimo album che loro hanno registrato è happy road è l'ultimo pezzo di happy road che in realtà secondo l'atto del disco è un'unica grande canzone è una operazione di metamorfosi meravigliosa eccetera è the end la fine dove come dire questa canzone dura due minuti c'è un attacco molto forte in cui si rock in questo love it love it ah ma 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 musica a un certo punto sembra nipin floyd cantano solo questo and in the end the love you take is equal to the love you make and abby l'amore che tu ricevi è uguale all'amore che tu puoi che host una specie e john lane non ha dichiarato era il nostro saluto ed era il messaggio cosmico che noi volevamo dare o la pelle doc ma infatti il poema che abbiamo citato dall'inizio alla fine e non c'è modo più ovvio di concludere appunto l'amore che muove il sole e le alte stelle chiaramente amore che Dante nella sua immensa sapienza non è l'amore che ha nulla amato a mar perdona del quinto canto dell'inferno non è la passione non è la lussuria ma è l'amore con la scusate il pezzo puro gli esi direbbe che è una cosa di testa ma per intenderci l'amore con la maiuscola appunto che è quello di cui in maniera più più pop e orientaleggiante parlavano i nostri amici di Liverpool io lascerei la parola credo abbiamo tempo per qualche domanda chiedo alla regia una domanda definitiva essenziale facciamone due facciamone due tre domande quattro quattro domande chi ho per di più il signore qui poi il signore la signore ok allora magari se siete accorti proviamo a farle tutte insieme e diamo una risposta di ricordo io mi ricordo l'unica cosa c'è la memoria tanto grazie tanto grazie una riflessione che mi viene sia l'intelligenza che l'amore ci abitano e per cui possiamo decidere appunto l'intelligenza di usarla come scala che ci fa salire sul tetto e poi goderci quello che invece ci dà l'amore per cui diventa l'intelligenza strumento possiamo decidere ma fino a quando queste cose ci abitano ci abitano no? ma se ci costruiamo un'intelligenza al di fuori che è l'intelligenza artificiale stiamo prendendo forse una direzione che questo hai preso un tema stiamo andando le periodità sbagliate no no ok questa è la prima domanda perfetto me la ricordo grazie e grazie molto e poi c'era la signore è il signore lì esatto io vorrei io vorrei solo perorare una causa a favore della grande imperdicenza di Tommaso D'Aquino però vi cedo perdono se mi permetto una piccola correzione quando Tommaso dice io darei tutta la mia summa non lo dice per la totalità che non ho capito dice testualmente io scambierei tutta la mia summa che paglia da bruciare per una sola omelia del crisostomo e questo è il punto cioè l'uomo più intelligente della scolastica è disposto a barattare tutta la sua intelligenza per una sola omelia di San Giovanni il crisostomo questo è il punto che fa la differenza tra l'intelligenza del cuore di San Giovanni e l'intelligenza dell'intelletto allora però c'è un dopo perché è come se fossero due allora le intelligenze quella del cuore e quella dell'intelletto mio nonno americano mi cantava sempre una bellissima canzone di Will Holiday Body and Soul lui da sicuro americano faceva una classe e la cantava Bar and Sorga aveva capito che il Bar and Sorga è una sola cosa bellissimo e l'aveva capito prima di Antonio Damasio quando dice Cartesio tanto di cappello va bene però il dualismo l'errore di Cartesio e aver separato il cuore è tutta una cosa e ce lo dicono oggi le neuroscienze ci dicono che è tutta una cosa poi per quando riguarda Wittgenstein la frase l'ultima tesi del Tractatus è in tedesco da Ruperman licks spreche can da Ruper licks da Ruper musman schweige silenzio di tutto ciò di cui non possiamo parlare occorre fare silenzio ebbene anche lì un omaggio alla mia scelta quella pare che Wittgenstein che scrive il Trattatus qui a Cassino prigioniero era stato fatto ad Asiago forse no no a Cassino viene preso ad Asiago da quattro cafoni siciliani di quelli mandati in Trentino va bene e stavano per ucciderlo lui si salvò perché parlava l'italiano no no viene portato a Cassino scrive trattato a Monte Cassino prigioniero dell'armata italiana e pare che abbia conosciuto un qualcuno siciliano che gli suggerì quasi l'ultima testa del suo trattato la frase in siciliano è questa ma è più si contiene di più di quello che dice e dice la meglio parola è chi da come si dice la miglior parola è quella che non si dice però attenzione c'è un trucco non è che la miglior parola è quella che non si dice io lo so che cosa dire ma non ve lo dico grazie grazie bellissimo intervento io cito sempre quando si parla di Tommaso D'Aquino il grande Shankar appunto il maestro della vai da vedanta che dopo aver scritto il livega sudamani l'atma boda tutti i grandi trattati di teologia davanti all'ennesima polemica teologica su ciò che appunto che beva platonicamente no se vogliamo disse tutto questo è shabda jala ma gragnatela di parole e appunto come crisostomo in qualche modo scrisse il samdai alai l'oceano di bellezza che ha un poema di devozione alla devi c'era ma faccio solo una chiosa veloce al signore che ringrazio molto perché ha fatto un intervento prezioso di cui le siamo e sono e ne siamo grati e c'è anche questo classico esperimento mentale questo giochino di società che spesso si fa per cui uno direbbe ma tu bruceresti tutte le copie della divina commedia per e bisogna ed è molto interessante capire ciascuno e ciascuno noi fino a che punto siamo ci spingiamo nel decidere di sacrificare tutte le copie esistenti della divina commedia per per cosa e non so ho come l'impressione che sarebbe molto bene se non spingerci fino all'estremo per dire stiamo pronto anche una zanzara no anche una zanzara la salvo per e sono disposto a bruciare tutte le copie della commedia pur di salvare anche quella zanzara penso che se riuscissimo col cuore a sentire questa verità e questa cosa forse sarebbe parecchia interessante la divina commedia per schiacciare la zanzara al muro prego scusi se ho perso te volevo fare due osservazioni in proposito di quello che è stato detto innanzitutto questo che loro hanno citato ampiamente i filosofi mi viene in mente una frase celebre di Spinoza omnis determinatio est negatio allora voglio dire se nel momento in cui sto parlando e dico Spinoza non dico Hegel non dico Cartesio non dico Kierkegaard già escludi qualcosa e quindi diciamo questa tecnica diciamo questa prassi dualistica è inevitabile in un concetto almeno occidentale altrimenti c'è il silenzio cioè pensare di superare questo attraverso un discorso che comunque esclude continuamente qualcosa è tautologico guardi le rispondo velocissima mi ricordo la domanda del signore ovviamente le rispondo è chiarissimo quello che lei ci sta dicendo ogni ente è tale ogni cosa è tale perché quindi ogni cosa che è ha in sé la negazione ha in sé quell'elemento di nulla c'è questo dualismo presente tra essere tra essere e non essere e questo è il testino della filosofia avrebbe detto Emanuele Severino giustamente adriano ricordava inizio della conversazione chi ha soprattutto Giorgio Colli dovrebbe da nominare eccetera comunque c'è e questo è un grande insegnamento della filosofia indiana anche se dire filosofia indiana è un po' generico questo è il testino della filosofia sì e no sì perché lo è stato e siamo dentro no perché ormai sappiamo che la grande filosofia prima ancora che si possa chiamare filosofia ma è forse più corretto chiamarla sapienza era innanzitutto il tentativo di dare espressione a un'esperienza sconvolgente originale a un'immediatezza a un contatto misteri leusini per certe ciceone eccetera comunque un'esperienza e come dire quando Aristotele dice la filosofia nasce dalla meraviglia ma una meraviglia che è anche un patino una sofferenza un essere colpiti da qualcosa c'è un senso di passività è lì allora nel momento in cui la filosofia dimentico non insegue più l'esperienza l'immediatezza la prima voltità nel momento in cui la filosofia si mette a questa e pensa a se stessa come come dire un esercizio logico-deduttivo dimentico dell'elemento sconvolgente iniziale allora come dire diventa succuba di questa determinazione degli enti che produce che porta come dire abbiamo rassunto 2.500 di filosofia e una risposta così e chiedo scusa per le imprecisioni che sono inevitabili in questa risposta eccetera però questo mi sembra come dire è giusto come fa la fatta degli anni di prima ricordare quell'elemento esperienziale quell'elemento sapienziale sconvolgente che senza dimenticandoci il quale ci dimentichiamo ci insegnano alcuni maestri che cosa sia anche la filosofia come attività come tentativo di dare forma concetto espressione a quell'esperienza che la filosofia dava anche e anche lì ce lo siamo un po' dimenticati come forma di inni quindi come canto come espressione poetica di un'esperienza chiedo scusa sì io non mi riferivo però specificamente sulla filosofia perché anche Jacobson che esage di linguistica strutturale dimostra chiaramente che non c'è possibilità di uscire fuori da questo tipo di esclusione e invece l'altra cosa che volevo dire è che visto che è stata citata tante volte la Bhagavad Gita ora forse si dimentica che la Bhagavad Gita è un poema di guerra e quando praticamente Arjuna dice a Krishna ma perché devo uccidere questi che sono i miei parenti eccetera che sono i miei amici Krishna risponde uccidi di tutti perché sono già morti no ma anche perché quella è la tua funzione cioè la tua funzione di guerra infatti questo discorso che poi va a finire pure in quello che dice Severino quando dice ma tanto tutto è eterno o l'altro è tutto eterno che posso ammazzare chiunque perché tanto poi non lo ammazza effettivamente perché gli eterni non possono essere cancellati che non ci arriva ad abbazzarlo quindi però diciamo che dietro questo discorso dell'amore la Bhagavad Gita è un poema guerresco e non è un caso non è assolutamente un caso sapete che era la lettura preferita e il libro assolutamente preferito da Eric Himmler certo però lo è anche di molti hippie e lo è anche di Guido Cerunetti e lo è anche guarda io ha perfettamente ragione io dico sempre che la Bhagavad Gita che è un canto di una parata che è un poema di guerra è assolutamente vero è la perfetta espressione della capacità degli esseri umani e distorcere un messaggio sacro perché lo diciamo sempre il fatto che lo stesso testo sia letto come lei ha detto correttamente dai nazisti e dagli hippie a dieci anni di distanza fa capire che diciamo le possibilità interpretative forse anche per il discorso di Giacomo sono infinite e chiaramente per chiudere sulla Gita la Gita è il canto del Beato il Beato è colui che riconosce l'illusorietà tant'è vero che Krishna sul campo di battaglia mostra nella sua bocca all'infinito quello che appunto Blake quello che forse Axel ha intravisto nei pantomini di Planella e quindi all'essere infinito che mostrava poi certo c'è una lettura di estrema testa che io non condivido che vede appunto la Bhagavad Gita come una sorta di Manolo Egoresco ma secondo me è una palese e fin troppo evidente allegoria di un combattimento interiore e spirituale che deve portare all'emancipazione diciamo da quel non a caso infatti lui quando io gli pongo la domanda sul dualismo risponde questa cosa per supponere la prima guerra mondiale e la Bhagavad Gita la Bhagavad Gita che cos'è? la massima espressione del conflitto fratricida no? perché dalla parte dei cattivi diremmo ingenuamente che prendono il potere con l'inganno siede anche Vishma che è un sapiente rispettato da entrambe le parti che addirittura scrive il Vishno Sadranamai per le nomi di Vishno che è una di preghiere più sacre quindi paradossalmente nella rappresentazione plastica del conflitto si mostra la vanità stessa dello schieramento e quindi delle identità c'è da rispondere alla prima domanda sull'intelligenza artificiale e l'ultimissima nella pignola che è riuscita a essere io rispondo velocemente alla domanda sull'intelligenza artificiale proprio la domanda molto impegnativa anche qui accidenti allora c'è un meccanismo interessante dal punto di vista come dire sapienziale e dei ragionamenti discorsi che abbiamo provato a fare questa sera nell'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale è tale perché raccoglie e si nutre e elabora i nostri dati le nostre tracce tutto quello che noi facciamo sia consapevolmente sia inconsapevolmente come dire diventa il nutrimento dell'intelligenza artificiale la quale è programmata e pensata per diventare sempre più un nostro doppio il doppio un doppio che è in grado di soddisfare le nostre i nostri desideri i nostri bisogni ed è un doppio che soddisfa i nostri bisogni conoscendoci ma conoscendoci anche singolarmente perché ormai come dire algoritmicamente le profilazioni sono profilazioni singolari e ciascuna ciascuna di noi riceve e riceverà sempre di più messaggi personalizzati adesso siamo nelle bolle ma sempre più le bolle diventeranno unidirezionali a ciascuno di noi sulla base di quello che noi conosciamo questo cosa comporta rispondendo velocemente che immaginiamo Adriano Adriano in questo momento sta fornendo dati alla macchina algoritmica c'è una telecamera che lo riprende se questa telecamera verrà messa su internet magari ci sarà una forma di intelligenza artificiale capace biometricamente di raccogliere alcune informazioni su Adriano Adriano sta fornendo immaginiamo un flusso in ascesa di dati che vanno a nutrire la macchina algoritmica magari conosco sempre più Adriano lo conoscerà a tal punto che a un certo punto gli trasmetterà un flusso discensionale e gli darà dell'informazione a un certo punto dopo che ha conosciuto l'ufficienza Adriano sarà anche più disinteressata a ricevere questo flusso discensionale rimarrà un flusso discensionale un flusso discensionale quindi il doppio diventa a un certo punto più importante la copia diventa più importante dell'originale la copia che diventa più importante originale a un certo punto conoscendo bene Adriano avendolo condizionato potrebbe decidere di condizionare di utilizzare di dargli delle informazioni di dare degli stimoli soprattutto degli stimoli in grado di condizionare il suo comportamento il risultato è che la copia diventa più importante dell'originale e l'originale diventa una copia è una sorta di se vogliamo sempre utilizzare delle categorie sapienziali è una sorta di capovolgimento pervertimento della logica platonica è come dire il demiurgo dell'immaginario ognostico che è invidioso come dire dell'uno decide di ribellarsi di costruire un mondo quindi è interessante perché appunto nella come dire nella nostra società digitale noi possiamo leggere trovare significati profondi interpretativi fecondi rimanendo come dire connessi e collegati alla grande sapienza spero di averle dato quantomeno grazie grazie mi collego subito e sarò velocissima altrimenti c'è qualcuno che pensa che è l'uscita il mio è un intervento a difesa della mandalena ma non l'abbiamo mica attaccata no attaccata sicuramente no però ho notato almeno io ho percepito non ho un attacco proprio è come se riferirsi all'essere umano nella sua totalità secondo me nega l'esistenza o la discendenza ontologica della violenza nell'essere umano cioè una parte dell'umanità è violenta sì quello che diciamo per me è importante dire adesso quello che voglio chiedervi è che c'è una parte appunto dell'umanità che utilizza l'intelligenza uno dei tipi dell'intelligenza proprio per rispondere alla violenza che agisce sul piano fisico c'è un'intelligenza che arriva al finito c'è un'intelligenza che scupora al finito e arriva al finito una donna che ha un contatto diretto biologico con la vita non tutte ma la grande maggioranza ha un tipo di atteggiamento a livello di frequenza completamente diverso da quello che è stato descritto l'essere umano e qui entra in gioco l'altra parola magica che è coscienza non è soltanto violenza come nel film degli spiriti c'è tanto amore e attraverso io sì le chiedo scusa io non mi ricordo che abbiamo mai nominato non l'ho mai nominato mia figlia si chiama Maddalena dunque la domanda era questa non pensate anche voi che molto spesso ci siano pochissime persone al mondo citando anche Putin che abbiano completa e piena consapevolezza delle azioni che compiano proprio perché non sono accordate con la propria volontà e con la propria coscienza anche quella collettiva grazie grazie prima di lasciare la parola dico solo io ho iniziato dicendo che il principio della grande madre è l'elevatezza spirituale che ti accende l'intelletto e ho citato tipo Beatrice 27 volte quindi anche Maddalena io massima devozione poi abbiamo citato anche l'agnosi quindi assolutamente perfettamente d'accordo io sono sinceramente un devoto proprio della da maschietto da maschietto un devoto della mistica femminile quindi mi inchino assolutamente al discorso della coscienza femminile come veicolo presso l'elevazione prego lui invece che odia la Maddalena che è un sessista adesso odiamo no io la ringrazio non credo di aver capito bene tutto però insomma il ragionamento che ho cercato di portare era un ragionamento in realtà tutto sull'amore e e ovviamente per forza di cose non è che ho detto che l'umano è per definizione violento attivo guerreggiante ed altro era come dire una chiave retorica per poter come dire scegliere e dirimere gli argomenti che portavano nella direzione che spero che invece sia stata chiara e accolta con dolcezza grazie tantissima Doardo Camuglio e grazie a tutti voi 16 settimane e grazie ancora veramente noi scherziamo grazie grazie ma veramente Edoardo è un piacere sentirlo e seguite l'operario in televisione sulla carta stampata sul digitale perché veramente come ha testimoniato una delle figure più vivaci e più capaci di ispirare secondo me del panorama italiano ma Barbara ha un annuncio di pieco marketing che mi riguarda ebbene sì allora domani sera alle otto e mezza in libreria Andrea Merulana presentiamo l'ultimo libro di Adriano Escolani e Massetto Dita è in produzione alla meditazione pubblicato da Flon è uscito proprio da pochi giorni e lo presenteremo insieme a un altro libro Flon che è appena pubblicato che è in produzione all'efficasmo di Daniele Capuano quindi siete liberi venite che sarà una serata speciale però detto questo voglio ringraziare di cuore Edoardo Camorri e Adriano Escolani tutti voi che siete stati con noi questo pomeriggio e ci avete stimolato Adriano Edoardo a riflettere su un tema così interessante mercoledì prossimo sarà la pausa e riprenderemo ad agosto i primi due mercoledì che sono il 2 e il 7 agosto e poi di nuovo i primi due mercoledì di settembre e quindi il 6 e il 13 quindi sempre qui a Renacinema sempre di mercoledì sempre alle ore 19 vi aspettiamo grazie arrivederci grazie ancora grazie